Iniziamo a parlare di spazi pubblici, significa che la comunità inizia a avere la necessità di ritrovarsi intorno agli spazi e di interrogarsi sul loro ruolo. E poi, altra cosa fondamentale, è quella che questa cosa parte da voi, cioè da giovani progettisti, aquilani o non, ma che comunque attraversano questa città la sentono proprio. Abbiamo messo su questa serie di incontri, sul tema ovviamente dell'architettura, però facendola dove, in spazi residui della città. L'architettura è quello di tradurre in forme una serie di stanze, anche brutali, ma che rappresentano poi delle esigenze concrete di ognuno di noi. Però di tradurlo, cioè di non appiattirsi sulla brutalità. Mi piacerebbe rivedere l'Aquila così com'era, piena di studenti, piena di gente, piena di vita. Una città bellissima, così come la ricordavo prima del terremoto. Grazie. 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 Grazie.